Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la grammatica della pratica, recensioni di prodotti editoriali, libri, ma non solo, in lingua italiana, recenti, meno recenti, nuovi o con qualche anno alle spalle. Il libro di cui vi vorrei parlare oggi è un libro di Roberto Daniel Villalba Sensei, Budo esoterico. Il titolo dice già tutto e se non bastasse è il sottotitolo a rendere chiaro quello che è l'oggetto di questo libro, la dimensione interiore delle arti marziali orientali. Un libro che è uscito poco tempo prima che Roberto Villalba Sensei ci lasciasse, circa un anno fa, febbraio del 2021, per un infarto, privando il mondo marziale italiano, ma non solo, di un contributo originale e intelligente. E in qualche modo quello che, senza falsa retorica, possiamo considerare un po' il suo testamento. Roberto Villalba Sensei è un insegnante argentino che si è stabilito in Italia per lunghi anni, ha diffuso la pratica del Tang Soo Do, che è una sorta di karate coreano. In questo libro, appunto, come narra il sottotitolo, fa un'analisi ad ampio raggio di quello che è l'aspetto esoterico delle arti marziali orientali. Quindi quello che è un po' l'aspetto urà, vorremmo dire così, che non sempre appare a prima vista e che è personale, diciamo la verità, in cui ogni praticante deve cercare l'aspetto che più gli si confà. È un aspetto ovviamente universale, che è compreso nelle arti marziali, ma per la sua propria natura ciascun praticante lo vede e lo analizza e lo scopre per quello che è. È un aspetto, ripeto, questo esoterico che, come appunto evidenzia il titolo, riguarda tutte le arti orientali, quindi non è limitato solamente a quella che è l'esperienza di Roberto Villalba Sensei, ma in qualche modo, chiaramente, con i dovuti distinguo, con le ovvie differenze tra discipline e discipline, tra arte e arte, però in qualche modo è presente dappertutto. Quindi questo volume, Roberto Villalba Sensei, raccoglie quello che potremmo definire il minimo comune multiplo, quello che è un po' il carattere che in tutte le arti marziali possiamo trovare. Ed è molto interessante appunto vedere quelli che sono i vari capitoli di questo volume. Già nel primo capitolo l'argomento è abbastanza tosto, direi così, perché si intitola Essere guerrieri, guerrieri tra virgolette, antropologia dell'arte marziale, quindi si parte con un escursus dell'arte marziale, quelle che sono le origini, il perché è nata anni fa e quello che è il senso di un'arte marziale oggi. Nei successivi capitoli c'è un'analisi delle due radici principali delle arti marziali orientali, quindi il taoismo cinese e il buddismo è la radice indiana delle arti marziali. Analizza poi nel quarto capitolo il senso del neikung, della pratica interna nelle arti marziali tradizionali e nel quinto capitolo un'altra vexata a questo, il guerriero e la violenza, la conoscenza di sé e il budo, ovvero come affrontare anche i demoni del guerriero, quello che ci spinge su un tatami ad affrontare un avversario e quanto è importante anche il confronto con noi stessi. Sesto capitolo un altro argomento molto interessante, il metodo magistrale, lo shuhari, ovvero quello che è la didattica tradizionale orientale, che parte con un'imitazione dell'insegnante e via via il praticante deve trovare una propria strada. c'è in tutto il volume e in questo capitolo in particolare una interessante analisi anche dell'etimologia dei caratteri che chi segue un po' questo canale sa che è una delle mie passioni e quindi dall'analisi degli ideogrammi vengono fatte interessanti approfondimenti. C'è poi un'altra, un altro argomento, ovvero la via dei dann, quindi si analizza quella che è la gerarchia, la progressione gerarchica del praticante, del chiu e poi appunto del dann, quello che sono le varie, come dire, qualità richieste dai primi dann, quelli che sono ancora all'inizio per certi aspetti del loro percorso e via via quando l'esperienza cresce. Poi capitolo ottavo, il binario del vandante, conoscere ed essere e poi capitolo nono, l'attenzione alle percezioni, strumento del neicum, quindi strumento appunto del lavoro interno. Conclude il libro un'interessante bibliografia suddivisa per argomenti che permette a chi lo voglia di avere ulteriori approfondamenti sugli argomenti trattati. Roberto Villalba sensei, come vi dicevo in questo libro, traccia un po' quello che è il suo testamento spirituale ed è interessante perché viene da un praticante sicuramente occidentale come formazione intellettuale, pur provenendo per certi aspetti dall'altra parte del mondo, poiché Roberto Villalba sensei era appunto di origine argentina. Quindi c'è un confronto tra vari mondi e credo che anche questo abbia permesso a Roberto Villalba sensei un'analisi priva di preconcetti che gli ha permesso di mettere insieme taoismo e buddismo, filosofie orientali e anche l'esoterismo occidentale, non mancano i riferimenti a Meister Eckhart piuttosto che a Massimo Scaligero, quindi in qualche modo non c'è quello che capita spesso di leggere questa esaltazione dell'erba del vicino orientale che è sempre più bella, più verde, più spirituale della nostra. Roberto Villalba sensei in questo libro fornisce degli interessanti strumenti, dei paletti, delle pietre miliari e traccia una strada, una delle tante strade se vogliamo, dà delle indicazioni ribadendo sempre in maniera abbastanza esplicita che poi la strada, come è giusto che sia, va percorsa da ciascuno di noi col proprio passo, col proprio obiettivo e con le proprie motivazioni. È un libro come spesso capita non facile, non è un libro da leggere in maniera distratta, è un libro molto profondo, un libro che molto spesso richiederà ulteriori approfondimenti e quindi ci sarà da andare a scavare, da esplorare ulteriori filoni di analisi. È un libro ovviamente molto interessante per un praticante esperto perché avrà la possibilità di analizzare sulla base della propria esperienza quello che propone Roberto Villalba sensei, ma è un libro altrettanto interessante per il principiante perché getta una luce sull'arte anche se ancora magari non la si è sperimentata in questi aspetti, ma è interessante sapere che cosa ci aspetta. Ed è un libro altrettanto interessante secondo me anche per chi si interessa un po' di esoterismo a campo largo per comprendere quello che c'è dietro le arti marziali, perché spesso non praticanti vedono chi fa arti marziali come un energumeno che pensa solo a picchiare, che sperimenta nuovi modi per sovraffare gli altri. Ecco, questo libro è una risposta molto molto interessante, molto dettagliata e molto approfondita su quello che c'è dietro la pratica delle arti marziali. Quindi un libro consigliato a tutti, Roberto Daniel Villalba sensei, il Budo esoterico, Nexus edizioni, un libro sicuramente interessante, forse non indispensabile all'inizio, ma che sicuramente merita di essere letto con attenzione. La mia recensione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi invito se vi va a lasciare un commento e iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle prossime uscite e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti.